Ecco, ci troviamo davanti alla sede dell'ex municipio qui in Piazzetta Firenze, vice sindaco, con la differenziata, a che punto siamo? Allora dottore, sono felice oggi perché finalmente ci siamo, finalmente siamo riusciti ad avviare il servizio di raccolta differenziata porta a porta. È stata faticosa, abbiamo avuto tantissimi, tantissimi problemi, soprattutto legati all'emergenza dei rifiuti in Sicilia, che è diventata insostenibile, ingestibile e assolutamente rivesta appunto un carattere emergenziale vero e proprio. Nussomeli, tutto sommato, siamo riusciti a gestirla e non avere i disagi che tantissimi altri comuni, ma proprio tanti hanno avuto in questo mese di giugno e nel mese di luglio. Le strade strapiene di rifiuti, le discariche chiuse, i camion che portano i rifiuti in discarica a fare chilometri e chilometri. Vi dico, c'è stato un servizio dove c'era una fila di 10 chilometri per accedere in discarica, l'unica discarica aperta era quella di Catania e molti, molti camion ritornavano indietro perché non riuscivano a scaricare. Finalmente ci siamo, siamo riusciti veramente con molto impegno a organizzare il servizio di raccolta porta a porta per la frazione secca differenziata. Quindi mi riferisco alla frazione di carta e cartone, plastica, vetro e alluminio. Iniziamo, partiamo, partiremo già da lunedì prossimo. Stamattina il sindaco ha firmato l'ordinanza e il commissario dell'SRR ci ha messo a disposizione un servizio emergenziale fino a quando non parte la gara che stabilizzerà per il periodo necessario per avviare le procedure previste dalla legge regionale in materia dei rifiuti e quindi avviare l'SRR con le dotazioni organiche e tutto il resto. A breve i cittadini riceveranno una serie di informazioni che io qui con me ho portato e in particolare la lettera con cui spieghiamo il servizio che va a partire. Dopodiché un debriando informativo sul modo di differenziare le varie tipologie dei rifiuti in particolare, come ho detto prima, plastica, vetro e lattine, carta e cartone mentre per la frazione di umido e l'indifferenziato man mano che attiviamo il servizio man mano che pariamo il servizio anche in materia di organizzazione delle squadre di lavoro poi faremo anche questa frazione. Abbiamo deciso di partire direttamente su tutte le aree del Paese questo è abbastanza rischioso, ce ne rendiamo conto però abbiamo voluto dare un segnale che noi vogliamo raggiungere gli obiettivi prefissati che ricordo a tutti sono obiettivi che impongono il raggiungimento della differenziata al 65% nel più breve tempo possibile. Abbiamo predisposto un calendario, anche questo verrà trasmesso a tutti i cittadini e ci sarà un servizio diversificato per le utenze domestiche, quindi tutti i cittadini e le utenze non domestiche ed in particolare gli esercizi pubblici, i bar, i ristoranti, le pizzerie vi dicendo che hanno una problematica diversa in merito alla frazione di rifiuti a differenziare. A breve riceverete tutto questo e andate in stampa oggi, spero già per domani che sia pronto in modo tale da fare la distribuzione a tutti i cittadini. Chiedo a tutti indistintamente di darci una mano, di aiutarci anche perché riuscire a conferire meno rifiuti in discarica vuol dire per tutti noi riuscire a pagare di meno perché ricordo a tutti che la tassa sui rifiuti si paga in relazione al costo dei rifiuti cioè è una tassa a copertura del 100%, per cui se noi riusciamo a ridurre i costi del servizio riusciamo a chiedere meno soldi ai cittadini per la tassa sui rifiuti. Per il resto le modalità di raccolta è una raccolta di tipo porta a porta come si faceva una volta quando io ero piccolo, passerà la squadra della ex Eato quindi adesso dell'SRR che per tutte le strade passerà da ogni singola utenza e raccoglierà i rifiuti. Il calendario oggi prevede la raccolta porta a porta il lunedì, martedì e venerdì il lunedì per vetro e lattine, il martedì per carta e cartone e il venerdì per la plastica. I cittadini lasciano il bidone e il sacchetto direttamente davanti alla porta e la squadra provvederà a ritirarlo. Per la carta e cartone, siccome è una raccolta differenziata, è obbligatorio che non venga conferita in sacchetti di plastica altrimenti viene contaminata la carta e cartone. Quindi gestitela come ritenete più opportuno o con un contenitore, con un bidoncino o legata, aperta in modo tale che gli operatori possano raccogliere facilmente e gli operatori passeranno e la raccoglieranno. Avremo un bel po' di lavoro, di sensibilizzazione da fare, ci attiveremo già da subito a cominciare da domani, domenica e tutta la prossima settimana, inizialmente cercheremo di venire incontro a tutte le problematiche, ci sono dei numeri di riferimento, c'è il sito, c'è una casella di posta elettronica appositamente aperta per gestire le problematiche, ci sono i numeri di telefono degli uffici, quindi chiedo a tutti per tutte le problematiche sul servizio di condattarci e faremo tesoro di tutte le segnalazioni. Ultima cosa, poi lascio la parola al sindaco, attiveremo pure il punto di raccolta mobile che al momento è al piazzale Moncibello e in questo modo i cittadini avranno anche la possibilità di valorizzare il loro sforzo, nel senso che verranno caricate e pesati tutti i rifiuti prodotti presso l'ecomobile e a questo verrà dato un valore e nelle prossime tariffazioni della Tari si terrà conto, naturalmente compatibilmente con i regolamenti vigenti in materia di tariffe e di tributi sui rifiuti, dello sforzo che i cittadini fanno per differenziare. Sindaco, differenziata, lunedì si parte? Lunedì finalmente dopo mesi di lavoro incessante e rispetto a questo devo ringraziare in modo particolare il vice sindaco, nonché assessore all'ambiente Francesco Canalella che ha fatto un lavoro certosino, incessante, molto puntuale e anche il commissario straordinario della SRR Enrico Vella per la collaborazione che ha sempre avuto con il comune di Mussomeli. Finalmente dicevo dopo mesi di lavoro io ci siamo, lunedì partiamo, partiamo con la frazione secca come diceva bene il vice sindaco, quindi già da lunedì partiamo con alcune utenze non domestiche in modo particolare con tutti gli esercenti, i barri, i pub, i ristoranti, le pizzerie, le pasticcerie e partiamo anche con le utenze domestiche, cioè con i cittadini che vivono nell'ambito del centro abitato di Mussomeli. Quindi partiremo dicevo lunedì già con vetro e alluminio, quindi i cittadini sono chiamati e sono invitati a depositare il sacchetto con il vetro e l'alluminio dalle ore 6 alle ore 8 di mattina in modo tale che la squadra passi a raccogliere appunto il vetro e l'alluminio che verrà poi conferito nell'apposita piattaforma e ci consentirà di avere anche un ricavo dalla vendita appunto del rifiuto. È una battaglia importante questa che lunedì parte, io sono certo che i nostri concittadini hanno quella maturità, quella sensibilità necessaria per anche a Mussomeli far decollare la raccolta differenziata che ormai in altri territori invece è un fatto acquisito e scontato, cosa che fino ad ora non è stata a Mussomeli. Io confido molto nel supporto e nell'ausilio dei cittadini così come confido molto che nei primi giorni ci sarà anche quella tonneranza per capire che siamo nella fase di avvio quindi possibilmente ci sarà qualche piccolo disguido ma sono certo che in modo veloce sapremo subito assestarci con il servizio, sapremo subito entrare al regime del servizio stesso. L'obiettivo come diceva Francesco, dice Sindaco, è arrivare al 65% di raccolta differenziata, partiamo esclusivamente con la frazione secca per poi in corso d'opera ampliare ulteriormente la raccolta differenziata anche all'umido. Però ritenevamo utile soprattutto nel periodo estivo dove invece la temperatura è alta, evitare che ci siano i classici disguidi dell'umido lasciato per strada e quindi preferiamo mantenere il conferimento dell'umido indifferenziato così come è stato finora nei cassonetti stradali che ci sono nei vari punti a Mussomeni e invece la frazione secca, quindi vetro, alluminio, carta cartone, plastica con il porta a porta su tutto il territorio comunale. Il mio è un'auspicio a tutti i cittadini nel entrare in questa logica, in questo approccio mentale nel più breve tempo possibile e quindi aiutare Mussomeli a essere al pari dei comuni ricicloni presenti. Grazie mille!